con accorato rispetto la nonna di giuditta sfiorò con la mano l'apporto che aveva ricevuto con accorato rispetto giuditta aveva 15 anni e la guida aveva detto che aveva una malformazione genetica del cuore la nonna che la aveva portata in seduta pianse quando ci disse che dagli esami fatti al cuore di giuditta risultò che la guida aveva ragione chiedemmo a giuditta giudi che cosa hai sentito quando la guida ti ha visitata giuditta ci pensò un momento e rispose mi sono sentita toccare dentro